Sette sono le lunghezze che divino in classifica la Torrese di Cristofali dal paterno di Torti. In casa però i giallorossi sono dei veri e propri rulli compressori, dieci su dieci fino a questo momento. Difficile il cammino esterno invece degli ospiti che hanno fatto meglio soltanto di Martin Sicuro e della stessa Torrese che fuori casa ha un cammino da incubo. Andiamo in cronaca, Primo Squillo e Marsicano con Mercogliano che ha una facile risposta Bruno. Risponde dall'altra parte del campo, Dorazio, con un destro fuori misura. Quattordicesimo alla volta di Sassarini che fa distendere in presa bassa ancora Bruno. Poi da uno svarione di Ranalletta sta per approfittarne Maio, conclusione respinta da Tabacco. Bel gesto di fair play al ventottesimo dei padroni di casa con Maio che si ferma con Ranalletta a terra. Sarebbe stata un'ottima occasione, bravo Maio. Palo gramoroso al trentaquattresimo di Chiacchiarelli. Destro violentissimo, palo pieno. Inizia la ripresa, gran lancio di Tini per Maio. Controllo da fuoriclasse, rientra sul suo piede ed è facile per lui battere Ranalletta in uscita. Torrese in vantaggio al terzo minuto. Quattro minuti più tardi Pietro Paolo per Maio. Prima scivola, poi recupera il tempo della battuta. Respinge con i piedi Ranalletta. Sarebbe stato un uno due micidiale. Si scuote ora il paterno a caccia di una reazione con Mastroianni. Suo tiro è alto. Il raddoppio arriva al ventisettesimo. Non si intendono Ranalletta e Pellini. Ne approfitta da rapace d'aria di vigore. Francesco Maio, doppietta personale per lui. Sei minuti più tardi, Mastroianni riapre la gara. Con questa zampata su cross perfetto millimetrico di Scippola. Ancora occasionissima per Mastroianni. Forcing del paterno. Bravo con i piedi. Bruno a respingere. Finale in dieci per il paterno. Espulso Fellini. Non c'è più tempo. Quattro minuti di recupero. Finisce 2-1 per la Torrese. Sì, diciamo che noi per 60 minuti abbiamo condotto la partita. Abbiamo fatto una buona gara. Dopodiché sapevamo che il paterno sarebbe venuto qui a vendere gara alla pelle. Ha dimostrato tutto il suo valore. Dopo aver preso il gol negli ultimi 15 minuti c'è stato un po' di paura di vincere. Visto anche la prestazione di mercoledì. Venivamo da una prestazione brutta come quella di Scoppito. Però ai ragazzi devo solo dire grazie e fare complimenti. Perché hanno messo dentro cuore, sacrificio, voglia. Quello che ho chiesto in settimana. Quindi siamo soddisfatti. Ci prendiamo questi tre punti. Cerchiamo di lavorare in settimana preparando la partita di Acqua e Sapore. La seconda domanda è sempre la stessa. Adesso cosa bisogna fare lontano da questo terreno di gioco? Questa è una bella domanda, Angelo. Noi adesso abbiamo una settimana per poter lavorare. Cercheremo di andare a Città Sant'Angelo per cercare finalmente di cambiare rotta. Perché veniamo da sette sconfitte di fila in trasferta. E una squadra che vuole ambire a fare un campionato, almeno per i play-off, deve iniziare a fare i punti anche fuori. La torresa, di là dei due gol regalati, finalmente il secondo gol, perché è stato un regalo nostro, hanno fatto il tiro del palo, dopodiché non hanno mai tirato in porta. Noi abbiamo due o tre o quattro occasioni per poter fare gol. Secondo tempo penso che l'avriamo meritato per quello che abbiamo fatto vedere in campo. Ci gira male, sicuramente. Però poi una partita correttissima, giocata bene da tutte e due le squadre. Poi ci sono state alcune decisioni dell'arbitro, dove l'espulsione di Fellina, dove il ragazzo non ha fatto assolutamente niente. E niente, ci va a compromettere anche per quanto riguarda la formazione prossima, che non abbiamo un ragazzo che sicuramente non merita ad essere espulso.